Ci sono alcune cose che la gente fa così come niente, tu no, magari non lo so, anche il discorso della fatica. Allora, i NISM sono appunto quelle sintomatologie che non vedi, però hai, che provi, che provi ogni giorno. No, quindi c'è il discorso di cercare di non disperdere le energie, no? Una delle cose che ti dicono, ad esempio anche in AISM, quando fai terapia occupazionale in particolare, ti dicono, che so, cosa sciocca, ti prepari le cose la sera per vestirti. Io per dire mangio in ufficio preparo sia per me che per mio marito, e ovviamente preparo tutti i pacchettini, li metto in friga, al mattino non faccio altro che metterli in borsa. Mi preparo i vestiti, così sono già pronti. E' un po' chi ha tempo non aspetti tempo. Cammino per molto meno tempo, mi devo fermare, però diciamo che anche quando cammino con mio marito, lui ha una falcata, sembra un bersagliere, gli dico dati una calmata, perché io, a parte che sono più piccolina, vado un pochino più piano, mi fermo qualche volta di più. Grazie. Grazie.